E' incredibile vedere come una zona piccola come le ginocchia può preoccupare tanto alle persone, soprattutto alle donne. Nel processo di invecchiamento, quando la pelle comincia a cadere, quando non c'è quella tenuta della pelle, quel sostegno della pelle e si comincia a accumulare la pelle sopra le ginocchia, è una cosa che preoccupa tanto perché crea un disagio, un inestetismo, soprattutto quando le donne mettono la gona corta o mettono un costume. Il problema di questo cedimento di cutte non riguarda solamente alle ginocchia, nella zona, nel distretto anatomico delle ginocchia, se no che viene da sopra, dalla parte della coscia dove tutta la pelle ha perso l'elasticità e quindi ha cominciato a cadere e a creare delle pieghe e delle rughe sopra il ginocchio. Quindi non solamente mi centro in quella zona a risolvere quel problema, devo risolvere il problema di tutta la gamba, di tutta la zona superiore per elasticizzare il tessuto, per creare tenuta del tessuto, sostegno e quindi migliorare la zona del ginocchio. Le tecniche di medicina estetica che permettono di fare questo sono dalle tecniche senza aghi alle tecniche con aghi. Io dubito che faccia una o faccia l'altra, di solito mi piace avvinarle perché così ottengo i migliori risultati. Quelle senza aghi sono per esempio la radiofrequenza, l'ultrasuono che vanno a stimolare il tessuto sottocutaneo per creare l'astina collagene e quindi tirarlo in su, il tessuto sottocutaneo che si veda non meno tutta questa pelle che cade sulle ginocchia. A quello io, come dicevo, di solito avvino le tecniche di medicina estetica iniettive, la biorivitalizzazione, la mesoterapia con vitamini, aminoacidi, elementi che vanno a nutrire la pelle per darle più elasticità e per darle più sostegno. Utilizzo una biorivitalizzazione che mi piace tanto che è l'idrossiapatita di calcio. L'idrossiapatita di calcio è uno dei filler, dei riempitivi più utilizzati al mondo e con più storia che non utilizzato come riempitivo perché viene diluito tanto con soluzione fisiologica si può utilizzare per stimolare, per dare un grosso stimolo al tessuto sottocutaneo che quindi il tessuto sottocutaneo tiri in su creando collagene, creando l'astina sia più elastico. Nei casi dove c'è tanto cedimento si può pensare a fare un lifting delle cosce per migliorare la regione del ginocchio. Un'altra tecnica che mi piace tanto in questa zona è per esempio l'utilizzo della carbossiterapia, l'anidride carbonica iniettata è un gas che andrà mediante le piccole iniezioni a scorrere in tutto il nostro sottocute della gamba, della coscia e quindi a stimolare a riaprire il microcircolo arteriovenoso e anche il linfatico e quello fa che il nostro corpo iniettando l'anidride carbonica riconosca questa situazione come una mancanza di ossigeno. Quindi il nostro corpo di forma naturale porterà l'ossigeno alla zona e creerà una ossigenazione dei tessuti per fare che il tessuto possa creare più collagene, più elastina che il principio di la tenuta e del sostegno dei nostri tessuti, dell'elasticità dei nostri tessuti. La carbossiterapia come dico è una tecnica che a me piace tantissimo ma che lavino sempre alle altre tecniche. Quando per esempio il problema è una raccolta, un accumulo di adipe di grasso nelle ginocchie, lì posso andare a lavorare o con l'intralipoterapia, l'intralipoterapia è una tecnica dove inietto delle sostanze che vanno a sciogliere il grasso e l'adipe di quella zona e che di solito si devono fare per le ginocchia che hanno un pochettino di grasso si devono fare una barra due sedute. Nel caso di un paziente, una paziente perché di solito sono donne che vogliano migliorare questa zona quello che si può fare è fare una liposuzione e rimuovere tutto questo grasso. Ci sono dei casi al contrario delle persone che hanno poco adipe, che sono molto magre, molto magri e quindi cade questo tessuto, cade questa pele sul ginocchio e che si può migliorare creando un piccolo riempimento. Quindi si prende un pochettino di acido ialuronico, lo inietto nella zona superiore delle ginocchia e quindi nel sottocute crea un pochettino di riempimento e quello mi crea un sostegno per tirare in su la pelle, quello nei casi dove è una persona molto magra e quindi la pelle cade e crea tutte quelle piegoline. La zona del ginocchio come vi dicevo all'inizio è molto piccola ma preoccupa tanto perché è una zona che tante volte si dimentica. Ci sono tante persone con un viso completamente curato con il seno rifatto, anche rifatto bene per carità e molto curate ma che quando per esempio mettono una rona o mettono un pantaloncino corto si vede questa zona, anche persone molto sportive, si vede questa zona con un cedimento dei tessuti, con un imbecchiamento che non va in concordanza con il resto del corpo, non fa un imbecchiamento armonico con il resto del corpo e quindi dovete sapere che ci sono delle tecniche che si possono applicare sulle ginocchia per migliorare quell'aspetto e per migliorare quella situazione che vada in in armonia con il imbecchiamento del resto del corpo. Sprezzo 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 Sprezzo